Due nuovi bandi della Regione per la sicurezza urbana per un totale di 1.200.000 euro li ha presentati l'assessore regionale alla Presidenza Vittorio Bugli a Firenze. Il primo da 800.000 euro è destinato ai progetti di rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici urbani. L'altro da 477.000 euro servirà a finanziare progetti di videosorveglianza, obiettivo spingere i comuni a investire sulle reti di comunità, in particolare nei quartieri e nelle zone più fragili. In queste zone vorremmo continuare a fare dei progetti di piccola riqualificazione, di rivitalizzazione attraverso iniziative, di riapertura di sarascinesche abbassate, di progetti sperimentali anche nei periodi delicati, legati alla Movida o ad altre esperienze. Dal 2005 la regione ha investito 16.600.000 euro nella sicurezza, 3.300.000 euro nel corso dell'ultima legislatura, per un totale di 172 progetti in 228 comuni, 9 milioni investiti a sostegno delle polizie locali e 12 progetti pilota di sicurezza integrata, Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Livorno, area dello Smannoro, Monte Catini Terme, Arezzo, Grosseto, Rosignano Marittimo, Poggi Bonsi e San Giovanni Valdarno. Grazie a tutti.